Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Mario Giordano, noto conduttore televisivo, è stato ospite del programma Dritto e Rovescio, condotto dal collega Paolo del Debbio su Mediaset. Durante l'intervista, sono stati toccati vari aspetti della sua vita, sia professionale che personale. Il conduttore di Fuori dal Coro ha affrontato anche diverse questioni attuali italiane e internazionali, un momento particolarmente speciale dell'intervista è stato un messaggio inaspettato destinato a Giordano. Contrariamente alle aspettative, il messaggio non proveniva da un critico, ma dalla sua figlia Alice, che ha inviato un videomessaggio annunciando una notizia entusiasmante. Alice ha rivelato che Mario Giordano sta per diventare nonno, esprimendo gratitudine nei confronti dei suoi genitori e sottolineando che stanno per assumere un nuovo ruolo importante nella vita di Giordano, scoprendo in diretta TV che sta per diventare nonno. Mario Giordano si è commosso e ha scherzato sulla multa che aveva istituito in casa per chi lo chiama «nonno Mario», mentre adesso gli rimangono pochi mesi. Prima di diventare un vero e proprio nonno. Il conduttore ha poi parlato del suo desiderio di condividere momenti significativi con i suoi figli? Sottolineando che, nonostante non fosse sempre presente, ha cercato di esserci nei momenti chiave. Giordano ha elogiato l'aiuto di sua moglie nel garantire la sua presenza nella vita dei loro figli. Cosa ne pensi di Mario Giordano? Lascia un tuo commento e continua a seguirci.